Buongiorno a Genova, che vuoi dire buongiorno a Siena? Anche facciamo una lezione di Zenese casalingo Sono le sue che possono venire bene proprio da imparare in questi momenti che ti saranno in casa Prima regola, l'impostazione Quando ti vuoi parlare Zenese, la cosa più importante? La stagione, la cucina ti dici bellinate e non ti pigi streppelli Secondo, in avvertenza A mia che parlare Zenese ti fa venire nervoso Vi dimostro anche facciamo il verbo FA Mi faccio tutti i fai, le ho fa, le ha fa, gli altri facciamo, gli altri fai, gli altri fanno Ti vedi è come quando ti metti in pratica queste cose ti vieni nervoso che ti ingeggia tutto bene Facciamo un esempio attuale Mi faccio il letto, mi faccio da mangiare, mi faccio il luogo Ti, ti fai i commenti su Facebook, ti fai un smart working Mi è già a fare delle grandi videochiamate con lui e fanno tanti discorsi, fanno tanti chat Mi fai giù grande? Uffa di grandi selfie su Instagram Gli altri fanno sempre cusci Gli altri fanno sempre cusci Gli altri fanno i cagli, che gli altri fanno sempre i cagli E sono solo me a fare cose Mi fanno venire nervoso Che mi fanno i cagli Ma non mi fanno sciolti Va bene, fermo che pank Alla fine a cusci Salut tutti quelli dei gormoni in Genova Salut anche la mia amica Lulli Che a che segue O coronaviru A non se fa I casi se Bona Ciao